Ragazzi, quella che state per vedere è un'intervista che mai avrei pensato di poter realizzare sul mio canale YouTube e dopo dieci anni di onorato servizio possiamo finalmente postare un contenuto come questo, un contenuto inedito, un contenuto che diventerà veramente il fiorlocchiello di questo canale. L'intervista all'ex portero da Juventus, Wojtek Szczesny. Signori, un mi piace a questo video è d'obbligo, vi chiedo di arrivare veramente almeno a 10.000 like per un contenuto del genere. So che è una richiesta molto elevata, ma è anche un video in esclusiva, un video irripetibile, un video che deve diventare storia, non solo del mio canale, ma anche un po' dell'informazione, perché Szczesny non ha ancora parlato con nessuno in Italia, l'ha fatto solo su questo canale, solo in questo video e ha anche detto chiaro e tondo che non ha interesse a rilasciare altre ricarazioni. Quindi buona visione, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e poi vi aspetto nei commenti. Allora, io non so bene come iniziarlo questo video, perché qui di fianco a me c'è una persona un po' particolare e quindi non posso fare altro che dire grazie. La prima cosa che posso fare è questa, gliel'ho già detto anche fuori onda, ma gliela dico ancora. Benvenuto Tech, come stai? Grazie, grazie, sto molto bene. Sono riposato. Sì. Intanto è un piacere essere qua con te, perché durante gli ultimi anni sei stato di grande supporto. Quindi ti ringrazio. Davvero? Eh, mi mandavi sempre dei messaggi nei momenti sia belli che quelli più bui. Ti rompevo le palle. Un pochettino, ti ho dato pure dell'interista, pensa a te. Però, no, davvero, sei uno dei pochi che mi hanno mandato dei messaggi di supporto durante anche dei periodi più bui, diciamo. Sì, perché comunque è sempre un equilibrio, no? Perché noi siamo abituati, noi tifosi, a vedere quei calciatori come delle figure professionali o comunque sportive, ma siete delle persone a tutti gli effetti e questo è già un grande gesto di umanità incredibile e io voglio omaggiare questo video in questo modo qua. È quella del Villarperosa? Villarperosa. Oh, è l'ultima Villarperosa, tra l'altro, quella che è stata fatta. È vero. Ma non la fanno più? Ma hanno proprio... Gli ultimi due anni hanno fatto l'Allianz l'anno scorso e quest'anno hanno fatto l'Allianz. È peccato, perché è stata molto bella. Mi è piaciuta sempre la giornata. È proprio la giornata in famiglia, è diverso, cioè con tutta la gente in campo, piuttosto che all'Allianz, una amichievole. Mi piace che tu abbia detto famiglia, è una parola importante, perché credo che sia la prima parola da cui voglio partire, perché la domanda numero uno deve essere come stanno i tuoi figli, dato che sei diventato ancora papà da poco. Molto bene, stanno dormendo tutte e due. No, molto bene. È una gioia immensa e ti dico, io non mi immaginavo mai di essere responsabile di qualcosa più importante di me. Un po' lo è stato il calcio per me, fino a un certo punto. Ma poi quando diventi papà capisci che quello che sei è tutto per i tuoi figli, è la responsabilità che hai per farli crescere bene, che sono educati bene, soprattutto quello più grande, la piccola a due mesi. Quindi arriveranno tanti problemi, ma per ora far crescere un bravo uomo non è una roba semplice. Uno pensa che basta dare un buon esempio e loro ci seguono, ma poi è molto più difficile di quello. Ti vedo anche commosso, infatti, per questa cosa. No, non sono commosso, però è una gioia, è come parlare della partita più bella della tua vita, o del trofeo più bello della tua vita. Ci arriveremo. Questa è la cosa più bella che ci capita. Liam è anche Gobo Marcio, mi pare di aver capito. Liam è tosto, ti dico questo. Poi sarà un bravo calciatore. Sì. Non ti fa la Juventus. Ah, ok, invece io pensavo su un combo. Cioè, ti fa mal papà. Ok. Però ti dico, se ci capitava una partita contro la Real Madrid, non lo so. Non lo so. C'è una partita con Real Madrid di cui voglio parlarti dopo, tra l'altro. Dopo mi dici lì, Liam, cosa ha pensato. Quale? Quella in cui tu sei entrato... Sì, ma lui era appena nato. No, era neanche nato. No, neanche nato. No, no, perché lui è nato giugno 2018. Questa era a marzo-aprile 2018. Pensa che quella partita lì è stata la prima partita che ho visto con Linda, la mia ragazza. Sì. Perché era una delle prime volte che uscivamo e non potevo dirgli, no, guarda, c'è la partita. Ma lei invece la sapeva e me l'ha fatta vedere. Brava. Brava lei. Brava lei, sì. Davvero brava. Brava lei. Allora, la prima domanda, usciamo dalle cose che ci siamo preparati, un attimino che mi sono preparato. Tante persone mi hanno chiesto, ma come nasce questa intervista? E la risposta è che nasce da te. Nasce perché, sì, te l'ho detto, te l'ho detto due mesi fa quando stavo parlando con Al Nasser e sembrava fosse tutto già fatto, mi ha mandato un messaggio di buona fortuna, quasi saluto, sì. Ha detto, guarda, se capita e non sarò più il giocatore da Juventus, facciamo una bella chiacchierata sul tuo canale. Non sono un giocatore di Al Nasser, ma comunque mi sembrava giusto fare una bella chiacchierata. Anche perché sei una persona simpatica, facciamo una bella chiacchierata, poi tu la metti su YouTube e prendi dei profitti. Siamo tutti contenti, hai capito? Ti giuro che più che i profitti questa è una cosa che proprio mi riempie il cuore di gioia, perché tu davvero non hai ancora parlato con nessuno in Italia. No. È la prima volta. E non credo di dover parlare con nessun altro. Ha detto Allegri, io non parlo bene italiano, quindi... Guarda che io ci sarei arrivato. Quello devo dire. Io volevo partire con questa cosa, in che lingua parliamo. Come l'hai vissuta quella cosa lì? No, ma se la gente non conosce Max, lui dice le cose per uscire dalla domanda, dice una cazzata e l'è fatto. E va avanti. Beh, ma se tu la prendi con Max per le piccole frecciattine che ti lancia, non ne esci più. Ogni giorno lancia una a qualcuno, quindi... Ma perché lì un po' il clima era un momento anche un po' particolare, no? Cioè, te avevi parlato della partita, cos'era il Siviglia, mi pare. Sì. E eri andato in controtendenza comunque alle dichiarazioni. Quindi non sembrava una roba molto simpatica, ci sembrava proprio uno scontro a distanza. Ma no, anche perché io, se ci pensi, magari mi sbaglio, ma io non ho neanche criticato il mister. No, no, certo, certo. Ho criticato la squadra perché noi in quella partita lì abbiamo approcciato la partita in un modo pessimo. ed era un semifinale di Champions, di Europa League, quindi una partita non importante, di più. Perché quell'anno arrivare in finale di Europa League o vincere addirittura l'Europa League sarebbe un traguardo incredibile. e se non hai il carattere di arrivare alla partita così importante, con la gioia di giocarcela, non di difendere il risultato, fare 0-0 e magari poi passare ai giorni, o l'approcci con l'idea di vincerla perché tu sei la Juventus e vuoi vincere il trofeo, o non sei la Juventus. E noi come squadra non abbiamo approcciato la partita da Juventus. ed ero molto arrabbiato dopo la partita, molto, molto. Anche durante la partita ero molto arrabbiato, perché io in quella partita ho strabato il culo alla squadra. Abbiamo perso ai supplementari, ma poteva finire tranquillamente 5-6-1 durante i 90 minuti. Quindi per quanto è bello fare delle belle parate, a un certo punto dopo la terza, quarta, ti viene da incazzarti. Certo, certo, infatti poi parleremo anche del portiere. Prima di andare avanti però chiedo se possiamo rivelare come ci siamo conosciuti io e te. Sì, ti ho mandato un messaggio, è molto casuale l'incontro. Eh ma fa ridere perché è nata da te questa cosa. No, è nata da me, sì. Io non ti conoscevo, io non guardo neanche tanto del YouTube, un giorno entro su YouTube e nella pagina quella principale mi esce un video che tu parlavi, hai smesso di lavorare e ora fai YouTuber come lavoro. Avevo 20 minuti liberi, ho guardato il video. Mi sembrava molto, la scelta molto coraggiosa. E t'ho visto anche un po' non comosso, ma sei quasi emozionato per la scelta che hai fatto, ti ho mandato un semplice messaggio di supporto e basta, è quello. È nata l'amicizia. Io ti dico una cosa che non ti ho mai detto, io quando ho letto il tuo messaggio ero in fila alla cassa di H&M che stavo comprando dei calzini e mi sono trovato messaggio da Chesney, io pensavo fosse un fake, ho detto in che senso? L'ho aperto e ho iniziato a tremare, sono uscito, sono andato alla mia ragazza che aveva una faccia che stava malissimo e ho detto ma cos'è successo? Ho detto non riesco a spiegartelo a parole, dobbiamo sederci un attimo. Ma i calzini li hai comprati? Sai che non lo so, forse sono uscito senza pagarli addirittura. Non lo so, non lo so, può essere. E niente, era perché questo è molto casuale, però infatti mi ha fatto terribilmente piacere e credo che questo descriva anche molto la tua persona. Poi diciamo la verità, per ripagare il favore, un paio di volte dopo esageravi nelle valutazioni delle partite di Chesney. Addirittura, ma perché te le guardavi tutte, davvero? No, non tutte, ma mi capitava perché ti vedo su Instagram, ti vedo ogni tanto, cioè una volta ho guardato il tuo video, poi mi escono i tuoi video su YouTube, ogni tanto faccio bomb, vediamo cosa dice Luca. Ed esageravo, davvero? Cioè facevo delle interviste semplici, dicevi no, capitano senza fascia, ma basta. Ecco, allora la domanda te la faccio. Perché tu la fascia non l'hai mai messa? Perché per tante volte si è andata. Onestamente? Eh sì, è certo. Onestamente non lo so, non lo so. Ah capoia, vedi, perché io ho sempre pensato, metti che, non lo so, si parlano e lui dice a me non interessa, per cui lui dicevo sempre capitano senza fascia. Allora, io, la mia sensazione è che può essere una masterclass di Allegri, e non sto scherzando. Perché? Responsabilizzare. No, 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 perché mister sa che io non gioco bene quando sono troppo carico, lui lo sa bene. Ok. Lo sa bene lui, quando io faccio un discorso nello speratoio, perché sono incazzato, sono troppo motivato, sono troppo carico, ecco, io non gioco bene, e lui lo sa, lo so anche io, ma ogni tanto non posso fare niente, voglio parlare, parlo, hai capito? Mi ricordo la giornata, la partita contro l'Atalanta in casa, l'anno scorso, l'andata. 3-3. 3-3, sì, 3-3. Bellissima partita, tra l'altro. Qualche giorno prima ci hanno tolto dei punti, sì, i 15 punti inizialmente, sì. E tutta la settimana ero incazzatissimo. Cioè, ero proprio... No, perché sai, è una cosa togliere i punti prima di partire. Un'altra cosa è toglierti dei punti che hai guadagnato in campo. Cioè, quelli, ho sul lato io, ho vinto in campo io, come fai a toglierti dei punti? Cioè, fammi partire da meno 15, è un'altra cosa. Da meno 15 io parto, gioco che inizio da meno 15. Io tutta la settimana ero molto incazzato. Ho fatto un discorso molto aggressivo, diciamo, nello spiatoio. E dopo cinque minuti mi sono buttato la palla dentro. E secondo me, dopo quella giornata lì, mister ha capito... Poi mi sa che è capitato anche un'altra volta, magari non così estremo, ma è capitato un'altra volta e lui aveva capito che Tec ha bisogno di rilassarsi e non darmi delle responsabilità della squadra. Perché io, quando gioco la mia partita, sono anche bravo, bravino. Ma quando voglio far troppo, sono troppo motivato, non è un buon segnale. Quindi può essere una masterclass di Allegri che aveva capito questa cosa. Tu eri uno che parlava tanto, uno spogliatoio, o parlavi di... No, 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 ma io lo odio. La sensazione era questa. Io odio il carico durante... Io ero molto amico con il Matthijs de Ligt. E anche lui, nella preparazione della partita, è molto simile a me. Noi facciamo i cazzi nostri. Non vogliamo sentire niente. Ci prepariamo per fare la nostra partita. E c'era Leo Bonucci, che è proprio l'incontrario di noi. E lui ogni partita si carica parlando della squadra. E più si carica... Più si carica... Io ero tipo tre posti da Matthijs. E ogni volta che Leo esagerava, ci guardavamo negli occhi e facevamo... No, no, non ancora. E quindi uno metteva le cuffie per non sentire le cose. In campo sì, ma tanto per dare informazioni ai difensori, ma non per caricare la gente. Secondo me la motivazione è una cosa profonda che hai dentro. Se un altro da esterno ti deve caricare, non è giusto. O ce l'hai dentro di te, di dare tutto. Cosa ti posso dire io per farti fare o dare di più? È impossibile. È una bella lettura. È una bella lettura. A me bastava quello. Io non ero uno di carico. E ti dico, nello spiegatoio dell'Avventus, oggi non ce ne sono tanti. Che parlano. È giusto così. Che caricano la squadra. Ok. Però per me è giusto così. No, no, beh. Cioè, voi l'anno scorso, o comunque negli ultimi anni e mezzo della panizzazione in poi, avevate fatto il cerchio. Che era forse il momento in cui vi andavate a caricare l'uno con l'altro, no? Sì, ma era anche la situazione che ti caricava, hai capito? Chiaro. Tutta la stagione scorsa, cioè non scorsa, quella 2022-2023. Sì, un anno e mezzo fa. Cioè, ogni giorno ti presentavi l'allenamento incazzato per quello che sta succedendo. A livello... Bello sentito. Quello che succede dall'esterno, ma anche, dico, ogni tanto la gestione non è che ci faceva felici. Te che ero incassato io, figurati te che ci lavoravi per questa roba. A me faceva venire la rabbia. Figuratevi voi che avevate fatto i punti. Sì. E poi ti dico, Mr. Edgar è stato fondamentale in quel momento lì, eh. Ah no, ci credo. Perché lui ha un'esperienza di... C'è tante volte si dice che lui è uno che gestisce lo spogliatoio, ma nei momenti di difficoltà, quando hai bisogno di uno che gestisce bene lo spogliatoio, e che sa scaricare delle pressioni o farti arrabbiare nel momento giusto. Lui è un maestro. Per me quei sei mesi lì che avete vissuto sono all'eterna memoria per tutti i tifosi, perché tutti quelli che hanno partecipato a quei sei mesi lì, dal punto di vista professionale, saranno sempre amati, secondo me, per quello che hanno fatto. E poi si dico, nessuno lo capirà, dall'esterno nessuno capirà la situazione, era una roba assurda, però ce l'abbiamo fatta, e guarda in campo abbiamo fatto anche secondo o terzo posto, dipende se contiamo quei due punti con la serenità. Sì, diciamo che non c'è andato il Milan, ma anche quelli, eh, anche quelli. Ma anche quella situazione lì faceva parte di quella stagione, di tutto quello che succedeva intorno a noi. Cioè, una partita pareggiata così, tu torni a casa, fai, no, io ho vinto. Una follia. Ho vinto, poi guarda il risultato, fa due a due, un punto a testa. Ma io ho vinto in campo. E tutte queste cose messe insieme, era un disastro. Pensa che noi in diretta neanche l'avevamo vista quella roba, perché non hanno trasmesso tutti i replay. Ma neanche io. A me ha mandato addirittura il messaggio Milik, quando rientrava a casa, mi ha fatto, guarda che c'è la Candreva. Io ero già arrabbiato per il gol annullato. No, ero già arrabbiato per il gol annullato di Milik, perché per me Bonucci non disturba il portiere. Tra l'altro, sì. La palla va sotto il set, il portiere è fermo. Però quello è soggettivo, ne possiamo discutere. Candreva è lì, è oggettivo. Io faccio il portiere, scusami. Era Seppe, era Seppe se non sbaglio. Seppe era fermo e la palla va sotto l'incrocio. Cioè, Leo è a un metro dalla porta, non la tocca, ma come fai a dire che lui disturba il portiere? Ero già arrabbiato così. Figurati qui. Poi arrivo a casa, vedo un messaggio di Milik con Candreva lì, che fa... Ascolta, Tec, ma te oggi ti senti libero o più libero rispetto a ieri? Perché, per dire, questi 20 minuti scarsi che abbiamo fatto sono proprio una chiacchierata che è difficile da vedere fare a un calciatore. cioè... No, non è che mi sento più libero, anzi, preferisco a non parlare di certe cose, però è il contenuto. Se fai una live su Sky sarà diversa che una cacchierata su YouTube, dai. Il contenuto è diverso, quindi... Sì, sì, è più amichevole, diciamo che non ti ho neanche il mio soffoggio, vuoi una birra, non lo so... Poi, io so bene che tu non sei qua per attaccarmi, quando fai l'intervista con quelli all'estero devi essere più attento, hai capito? Ho capito. Ogni parola può essere messa fuori... Ecco perché hai imparato bene l'italiano allora, ecco perché hai imparato bene l'italiano, per non essere in difficoltà nell'intervista. Eh, ma... se non lo parli proprio è ancora più facile. Hai ragione, parli in lingue... Non ti fanno fare l'intervista. No, non ti fanno fare l'intervista. Ah, direttamente, giusto, giusto. Può essere... Te invece di lingue ne parli un botto adesso che mi viene in mente. No, no, tre lingue. Tre, beh, insomma... Io ne parlo una, quindi... È malissimo l'impegno. Eppure male. Eppure anche male, grazie, grazie. Ascolta, tre domande in una. Che cos'è per te il ruolo del portiere? La tua miglior parata è la partita che hai più a mente e poi se ti dico buffon per impinsoglio, cosa ti viene in mente? Allora, per me il lavoro del portiere è... È una sofferenza. Ok. È una sofferenza a livello mentale, dico. Ok. Praticamente... Ti fa qualche allenamento durante il precampionato che soffri. Durante la stagione no. È più lavoro tecnico. Ma a livello mentale essere capace di stare dentro la partita per 90 minuti senza far niente ogni tanto è una roba tosta. Sì, sì. Io ho guardato un paio di anni fa, magari l'anno scorso, un'intervista con ormai l'ex portiere dell'Arsenal, Alan Ramsdale che parlava di questa cosa. Ha detto che lui non è mai stato capace di stare dentro la partita per 90 minuti. e quindi lo fa per 20 minuti, poi esce per due minuti quando la palla è lontana dalla porta. Ho pensato... Uh... Aaron è in difficoltà. Perché pensavo fosse un grande portiere. Ho detto, se non impara di avere quella cosa lì che ti cambia il mondo. perché il pericolo ti può arrivare in un secondo se non sei pronto. Bello. E infatti un mese dopo ha perso il posto di titolare all'Arsenal e ora gioca al Southampton. Nonostante... Io lo vedo un grandissimo portiere a livello fisico, tecnico, ma probabilmente non ha quella cosa lì per giocare nella squadra top. Quindi è una sofferenza e uno deve giocare tante partite deve anche imparare come gestire dei momenti della partita. Sì, sì, sì. La seconda domanda. La parata più bella che ho fatto nella vita mia è Nico Gonzalez l'anno scorso. Su punizione. No, no. Sul tiro a giro. Non era punizione. Sul suo tiro a giro. Sì, sì. Punizione era Muriel che era un altro. Sì, Muriel è una bella parata ma quella di Nico Gonzalez a livello è la più difficile è la più bella per me come portiere perché il tiro di Muriel è una punizione. Se la metto sopra la barriera cerco di fare un passetto e spingere e speriamo. È una parata molto semplice a livello di lettura. Invece quella di Nico Gonzalez è una parata poi dovrei entrare davvero nel dettaglio del lavoro come lo vedo io il lavoro del portiere ma è una lettura della posizione perché io mi sono abbassato molto per quel tiro lì conoscendo un ragazzo e poi la palla viene deviata da Danilo e io la paro dietro di me con la mano sopra e riuscire a dare qualsiasi forza alla deviazione con la mano quando la palla è dietro di te è quasi impossibile quindi un po' lanci la mano e speri che devi sperare e poi io ti dico a me piace la parata quando la zippi e poi prendi la traversa e va fuori perché ti fa capire quanto sei stato al limite di prendere gol o fare un miracolo e quanto è importante la parata e poi era sull'1-0 per noi quindi anche il momento della partita è sempre molto importante anche della stagione perché era un momento in cui si faticava a vincere è stata forse l'unica vittoria credo nel turno quindi importante secondo me eravamo ancora in corsa in corsa magari sbaglio però secondo me era dopo la Coppa Italia con la Lazio comunque Juve Fiorentina quindi è una partita sentita dai tifosi della Fiorentina e quindi che somaro però è vero però è vero deciderla così è stata molto bella e poi aspetta no aspetta ho svariato non è la mia parata è la mia parata preferita nella Juventus perché se non hai messi no è la doppia parata del rigore al mondiale contro l'Arabia ah sì sì la partita prima dell'Argentina io avrei scomissuto il rigore l'ho parato deviato anche male la palla ma poi la seconda parata la velocità di rialzarmi capire la situazione e deviarla perché non c'è d'angolo la seconda io ti dico non mi capita tanto ma in quel momento lì ho fatto la parata e ho pensato ho fatto la parata più bella del mondo ah l'hai pensato lì ma proprio nel momento che deviavo la palla e ho visto che la palla è andata sopra perché non ho avviato di tanto la palla cioè ho sfiorato la palla è andata sopra ho pensato cazzo è la parata più bella che ho visto nella vita mia e non l'avevi vista l'avevi fatta bravo quindi è stato un bel momento sì e i tre nomi che ti ho detto prima cosa ti fanno venire in mente? aspetta Buffon, Pinsolio e Perino no una famiglia ma tutte e tre tutte e tre in un modo completamente diverso ma il rapporto che si è creato dentro quel gruppo cioè stiamo ancora parlando della nostra chat su Whatsapp ci credo c'eravamo chat della squadra e chat dei portieri e beh ovvio ci mancherebbe altro e sono sono delle persone cioè ho imparato tanto da Gigi ho imparato davvero tantissimo guardandolo neanche parlando con Gigi perché io che c'è lì? ah Gigi bravo metti la mia ho finito le cornici adesso prendo una cornici ho imparato tanto poi Gigi è molto diverso da me perché Gigi è proprio quello che ha bisogno del carico lui vive della della passione di calcio è uno molto caldo io sono molto freddo non magari come persona ma come calciatore sono uno molto freddo che cerca di non avere emozioni durante la partita e siamo molto diversi ma guardandolo è una esperienza della vita c'è da me un ragazzino che guardava Gigi vincere il mondiale nel 2006 senza neanche di senza sperare neanche di poter arrivare al livello della Juventus o c'è qualsiasi livello professionale poi condividere lo spiegato è un sogno è un sogno ma è proprio un sogno non è neanche esperienza è un sogno che che mi è capitato è bellissimo tu hai 16-16 anni quando hai vinto avevo 16 anni ed ero pronto per andare all'Arsenal nel settore dell'Arsenal nel 2006 e lui era il portiere nettamente più forte per me della storia ma in quel momento sicuramente del mondo e quindi poi è stata una esperienza davvero meravigliosa e poi non mi aspettavo neanche una persona così così brava perché Gigi è è un uomo incredibile davvero un uomo per bene tu avresti mai pensato lì in quel momento che vai all'Arsenal nelle giovanili mentre vedi Buffon ma scherzi di diventare l'erede di Buffon ma scherzi ma neanche di poter giocare contro Gigi Buffon io mi ricordo nel 2010 la mia prima stagione da titolare all'Arsenal ho giocato contro Edwin van der Sar che giocava nel Manchester United e già lì ho pensato ma che cosa sta succedendo io quelli li guardavo in tv ma è impossibile poi giocavo contro Ibrahimovic poi aspetta ho giocato con Thierry Henry perché Thierry una volta Thierry è il mio idolo era tornato è il mio idolo cioè per i portieri è stato sempre Gigi e Petro Schmeichel ma come giocatore per me Thierry Henry è Dio e quindi lui una volta è tornato in prestito da New York se non sbaglio e sono stato un compagno di squadra con Dio che se non ero preso il 12 perché lui ha sempre il 14 ha preso il 12 sì bravo e ha fatto gol nell'esordio contro l'Isa United con la Marm sì abbiamo vinto 1-0 quindi c'è tutte queste esperienze per me è stato un sogno ma neanche un sogno l'ho scritto nel nel mio post su Nistam dell'Addio che sono cose che quando ci penso oggi non erano dei miei sogni perché io non ci pensavo neanche non sognavo neanche di fare queste cose era una roba da tv io queste cose quando giocavo alla Playstation ogni tanto giocavo con Thierry Henry ma non da vivo quello non succede e quindi è stato stato molto bello poi gli altri due Mattia e Carlo sono stati soprattutto importanti per me per creare un ambiente che che mi ha fatto giocare bene perché io non sentivo mai una concorrenza con il Perino è un grandissimo portiere è un grandissimo portiere e secondo me è molto sottovalutato e io non ho mai sentito un Mattia che si lamenta perché non gioca titolare o Cesni ha fatto una partita brutta a Sassuolo e ora devo giocare io era sempre il primo ad aiutarmi ma lo sento ogni tanto nella vita quando uno ti aiuta perché gli conviene aiutarti o è costretto ad aiutarti o se lo fa per bene perché ti vuole bene e Mattia è stato sempre di grande supporto di grande aiuto e poi quando io volevo riposare ha giocato ai livelli davvero molto alti e io resto convinto che quest'anno nonostante l'arrivo di un bravissimo portiere Mattia sarà un giocatore molto molto importante per la squadra e non solo nello speratoio ma anche in campo mi hai fatto venire in mente una cosa che non c'entra niente però te la chiedo perché Gigi Buffon quando ha deciso di ritirarsi diceva che lui sentiva di poter comunque fare il portiere però farlo anche ad alti livelli ma non per tutta la stagione però diceva sì però se io non faccio tutte le partite della stagione quei livelli non li raggiungo quindi fare il secondo è una cosa secondo me no è molto difficile è molto è molto difficile poi ci sono dei portieri che magari sono più predisposti a fare il secondo io non lo potrei fare mai nella vita mia perché io se non ho il ritmo delle partite non gioco almeno una volta a settimana fai anche una volta una volta ogni due settimane ma comunque un ritmo io non riesco se tu guardi la mia storia nella Juventus ma io penso anche alla mia storia di tutta la mia carriera io sono stato il portiere più scarso del mondo nelle prime cinque partite dei campionati davvero è perché non avevo ancora il ritmo io io un amichevole non ti dà quel ritmo non ti dà non ti fa entrare nel mood partita quindi io se ci pensi tre anni fa avevo l'Udinese Napoli l'anno scorso avevo il coso del del Reggio Emilia che tu eri presente pure se lo ricordo l'anno prima avevo l'Atalanta in casa che è la quarta partita più o meno e poi non stavo mai bene fisicamente stavo bene ma la palla andava molto più veloce per me perché la mia coordinazione probabilmente occhio palla non era ancora lì però sapendo che che non posso giocare ai massimi belli non è che posso dire va bene non gioco le prime perché se non gioco le prime le prossime saranno le mie prime comunque quindi devi comunque passare quel momento per quindi io per quel motivo lì non potrei mai fare il secondo portiere l'ho fatto un anno della mia vita con Gigi ma comunque quell'anno ho giocato venti partite se non sbaglio più una in Champions contro Real quello un minuto quello un minuto che poteva diventare storia tec però sì Mattia è stato di grande aiuto di Carlo non c'è neanche bisogno di parlare perché Carlo è la definizione dell'uomo spogliatoio perché è uno che vuole bene a tutti quanti della squadra ma è una roba che ognuno ha delle amicizie ci sono dei gruppi ma è normale dentro una squadra di venticinque persone è normale che tu hai quelli tre quattro che sono più vicini a te Carlo ne ha venticinque nello spogliatoio ma non è falso è tutto vero è incredibile è un personaggio e poi io ti dico una cosa che tanti non dicono Carlo è un buon portiere eh sì eh sì no certo cioè Carlo secondo me potrebbe tranquillamente giocare cioè potrebbe tranquillamente giocare titolare nella parte media-bassa della Serie A cioè Carlo a Verona farebbe bene magari non è un portiere da Juventus da Milan ma è un portiere che potrebbe fare molto bene in Serie A però il cuore l'ha legato lì no ma è bravo lui bravo lui prima mi hai detto che sono stato morbido con te nelle dichiarazioni quando parlavi però io invece ero serio perché secondo me tu hai compreso più di tanti altri che cos'è la Juventus quindi ti chiedo che cos'è per te la Juventus cos'è stata cos'è ma vedi la prima parola che mi viene in mente è giusto dire la prima che mi viene è famiglia perché è vero che è un business è vero che è una squadra di calcio che va in campo per vincere ma ma è una famiglia cioè io mi ricordo la prima volta che ero a Villarperosa e ho parlato anche tanto con Andrea Agnelli che per me è stato un riferimento molto importante nei primi due anni ma anche poi lo è ancora perché è ancora una persona che senti che sento sento tanto ma capire c'è una cosa assurda perché arrivi nella Juventus una delle squadre più forti in Europa e nel mondo e dopo una o due settimane vai a Villarperosa in quel in quel piccolo campo dove vengono delle leggende della Juventus e capisci che il Zidane ha giocato in quel campetto lì che Platini ha giocato in quel campetto lì io ce l'ho di fianco a me Buffon Bibala Higuain e tutti Chiellini e ti fa sentire che quello non è un business che poi se bisogna vincere bisogna portare dei soldi anche noi siamo dei dipendenti che costano però però all'inizio quando arrivi e fai la Villarperosa ecco perché ti dico che è peccato che non non fanno più la Villarperosa che prima di tutto sei entrato in famiglia Juventus in famiglia Agnelli perché l'impegno che dà tutta la famiglia per sopportare la Juventus è diverso da quello che vedi in tutte le altre squadre in Europa cioè per tutti gli altri hai la sensazione del business che la cosa che conta è il bilancio sono i soldi sono le vittorie alla Juventus sì che contano le vittorie sono importantissime le vittorie ma il senso di di responsabilità per la storia che ha creato la famiglia Agnelli alla Juventus è è bellissimo e ti spinge ti dà la pressione però senti tutto tutto il supporto del mondo dalla parte loro e quindi mi è emozionato te lo dico no ma io io dovrei ringraziare tutti loro e l'ho fatto anche con Andrea quando ho smesso di giocare a calcio è stata una delle prime persone che ho chiamato perché il stimolo che mi ha dato lui è stato stato molto importante per per farcela per sette anni perché non è da tutti fare sette anni alla Juventus a alti livelli e io sono fiero di poter dire che io non è che ho fatto sette anni l'ho fatto ai livelli molto alti e infatti la domanda che ti faccio dopo è hai rimpianti perché da come ne parli mi pare di capire di no però magari qualcosa dentro di te no rimpianti per come finita no in generale rimpianti nella tua carriera no no cioè ho un rimpianto è questo ma non è un rimpianto è una cosa che mi piacerebbe farla in un'altra vita fare tutta la carriera all'Arsenal perché io da bambino sono stato un tifoso dell'Arsenal quindi ma dai dover andare via dall'Arsenal è stato un momento probabilmente più duro della mia carriera perché andavo via da tifoso e mi sentivo anche buttato fuori dal proprio perché sapevo di essere ancora in grado di giocarli di giocare all'Arsenal quindi questa è l'unica cosa che magari vorrei provare un'altra vita ma poi questa vita mi ha dato l'esperienza di d'Italia di due anni a Roma e sette anni allo Juventus e soprattutto quei sette anni a Torino sono stati molto c'è stata una sfida ma una sfida personale per me non semplice ma che ho fatto molto meglio di quello che mi aspettavo e quindi quando ti capita la sfida della tua vita e lo fai ancora meglio di quello che speravi di poter fare è una sensazione bellissima quindi non non ho rimpianti non ho rimpianti magari ho un piccolo impianto che non ho la possibilità di aiutare la squadra quest'anno ma questo non dipende da me però non è neanche un rimpianto però lo vorrei fare infatti infatti abbiamo sfiorato un po' l'argomento come l'hai presa questa cosa con tanta tranquillità con tanta tranquillità poi ero sorpreso cioè non me l'aspettavo perché magari se giochi sotto un certo livello ti aspetti di essere di trovarti fuori il progetto io questa cosa non l'avrei mai immaginata però poi ero molto tranquillo perché devi capire una cosa io ho parlato molto sinceramente con il direttore aggiunto lì all'inizio della scorsa stagione perché lui voleva parlare del rinnovo del contratto e ci siamo seduti in una stanza per tre minuti mi ha detto te vorrei rinnovare il tuo contratto cosa ne pensi io ho detto guarda io alla fine del prossimo anno mi ritiro dal calcio perché non ce l'avevi già in testa no io dopo questo contratto volevo comunque ritirarvi dal calcio cavolo non ha senso parlare del rinnovo perché io non giocherò più a calcio alla fine della stagione 24-25 e quindi sono stato onesto potevo pure prolungare il contratto e rubare dei soldi tra virgolette hai capito ma sono stato onesto e poi non ho sentito più un paio di volte ci ha provato il direttore dicendo ma sei sicuro della scelta e poi non ho sentito più niente e poi vedo nei giornali di Gregorio Juventus hai fatto due più due no ha fatto due più due sì ma poi diciamo la verità devo essere anche onesto io stimo tanto di Gregorio ma potevo anche immaginare uno scenario dove Mattia voleva andare via e hanno preso di Gregorio al posto di Mattia per fare il secondo per questo l'ultimo anno mio per poi magari prendere il posto da titolare però poi la notizia è arrivata molto veloce e niente ero sorpreso ma ero molto tranquillo perché io in quel momento lì sapevo va bene mi ritrovo dal calcio perché io non sono pronto per una nuova sfida cioè io avevo già deciso di ritirarmi dopo il contratto dell'Iventus è perché non me la sento di affrontare delle nuove sfide e quindi è stata solo una scelta della Juventus che io posso non essere d'accordo ma l'accetto cioè non ci posso fare niente io Juve Monza c'ero che è stata l'ultima dell'anno scorso ma io in quel momento lì non sapevo neanche ecco perché alla fine della partita che gioca per in quella partita fate il giro del campo con la Coppa Italia e io ho visto per in che slanciava per aria la Coppa Italia tantissime volte te invece eri molto indisparter molto pensieroso però no ma questo anche perché io la Coppa Italia io non ho giocato neanche una partita in Coppa Italia non è da me alzare un trofeo che non ho sentito la Coppa Italia come dei scudetti che ho vinto ma no non sapevo te lo giuro in quel momento lì ero convinto di restare alla Juventus cioè sentivo delle notizie di Gregorio di Gregorio di Gregorio ma ci sta ma non non immaginavo neanche di di trovarmi fuori progetto poi quando mi è arrivata la notizia ho detto bene parliamo della risoluzione del contratto perché a quel punto io non è che qualcuno mi può spingere per giocare all'ultimo della mia carriera a Monza con tutto rispetto a Fiorentina Napoli e quelle squadre lì qualsiasi squadra no però c'erano delle possibilità prima della risoluzione c'erano delle possibilità è anche giusto che il direttore ha provato di trovare una soluzione ma io sono stato chiaro guarda sono stato onesto dall'inizio che dopo l'avventura a Juventus io mi ritrovo al calcio tu mi dici che la storia con la Juventus finisce oggi finisce anche la mia storia con il calcio non è che qualcuno mi può spingere che qualcuno mi può spingere a giocare al Monza e giocare per la salvezza l'ultimo della mia carriera dopo la carriera che ho fatto e quindi poi abbiamo trovato d'accordo ed è andata così ma ero sereno perché nella mia testa io ero già pronto per il tiro poi volevo dare ancora un anno alla Juventus perché ce l'avevo sia nella testa sia nel mio corpo sentivo di poter farlo bene alla Juventus ma quando è finita grazie ciao ma ti dico per quanto non sono d'accordo con la scelta non ho nessuna nessun tipo di di rammarico verso il direttore o qualche emozioni negative niente sono pieno di rispetto per loro hanno fatto la loro scelta e sono anche stati rispettosi nei miei confronti durante quel mese di preparazione quindi io resto tifoso della Juventus e basta te però magari un piccolo rimpianto poteva essere un saluto in campo come è stato per dire quegli Uve Monza per Alessandro come per Gigi quando l'hai portato in giro per il campo sì ma ero tutti anche nella testa mia come faccio a fare il giro del campo convinto di essere ancora il giocatore della Juventus dell'anno prossimo no no nel senso questa cosa ti manca è una cosa di cui hai un rimpianto questa questa può essere un rimpianto l'avresti voluto non lo so non lo so anche perché a me non mi piacciono degli ad e quindi tipo di giocare l'ultima partita nella Juventus sapendo che questa è l'ultima partita nella Juventus ti parlavo delle emozioni e del carico che io soffro quando sento troppe emozioni e troppo carico prima della partita cioè sapere che gioco l'ultima partita nella Juventus cioè io non sarei capace cioè non sarei neanche capace di giocare l'ultima quindi magari è giusto che è finita così cioè mi aspetta magari ancora l'ultima con la nazionale e già ho paura ah c'è un'ultima con la nazionale quindi c'è questa possibilità stiamo parlando molto bene mi fa piacere mi fa molto piacere e la Juve la saluti in qualche modo spero di sì spero di sì stiamo parlando con la società della data di un saluto allo stadio e quando mi dicono io mi presento cioè più di questo non posso fare pensa che mio papà oggi mi ha telefonato per dirmi ricordati di chiedere a Tec se lo possiamo salutare allo stadio perché se lo merito è stata anche guarda è stata anche un'idea della società di farmi quel bel regalo però io sto aspettando se mi dicono di presentarmi domani a Torino per farlo mi presento domani a Torino intanto mi presento a Torino fra due giorni per fare il trasloco quindi ah ecco che brutta cosa è questa in bocca al lupo perché ci vuole sono anche abituato ne ho fatti nella mia vita quindi Tec mi ha colpito tantissimo nel tuo messaggio di addio quando hai detto la testa era pronta ma il cuore no sì ma parlando di cuore io parlo di quella cosa di una nuova sfida di di far anche spostare la mia famiglia di nuovo con una piccola così non vale la pena cioè sapendo comunque che che posso ancora fare l'ultimo anno della mia carriera cioè spostare ora tutta la famiglia con un figlio che deve andare a scuola con con la figlia che ha che ha due mesi chiaro non 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 ce la facevo cioè io ho aspettato anche due settimane per vedere magari cambiavi idea se qualcosa mi mi eccita qualcosa mi mi dà quel quel stimolo per per cambiare l'idea ma poi ho parlato anche con delle squadre importantissime in Europa e a certo punto ho detto va bene se io ho rifiuto quelle squadre lì vuol dire che vuol dire che non ci sono più si possono dire o sono top secret no ma non ha senso anche perché sono delle squadre che hanno provato di di prendermi e poi non hanno trovato il portiere quindi non vorrei mettere in difficoltà il portiere titolare di quelle squadre lì quindi non c'è nessun problema non ha senso poi tante anche che mi hanno cercato per fare il secondo ma poi anche lì è lo stesso discorso di prima cioè fare l'ultimo anno di carriera da secondo quando io non l'ho mai fatto perché? per guadagnare un milione di più due milioni di più ce ne ho dei milioni cioè basta beato te guarda che bella casa hai capito? complimenti grazie proprio per fare un'altra macchina non mi non mi non era quello non mi piaciuto cioè non era quello quindi quando avevo capito a un certo punto che sto rifiutando delle squadre importantissime vuol dire che che non ci sono più caputa te prima hai detto che sei comunque tifoso della Juventus quindi la stai seguendo? stai guardando? sì ho guardato tutte le partite pensate che io non guardavo tanto del calcio quando giocavo sì quando ero in ritiro con la squadra ogni tanto eravamo lì sul tavolo c'è una squadra di serie A o di Champions ma stare a casa guardare la partita non è da me non mi piace però ora sono con il piccolo che vuole vedere la partita e quindi quando gioco alla Juventus c'è zico nelle ultime tre settimane ho guardato tre partite sono Juvecomo Verona-Juve e Juve-Roma ma neanche 90 minuti perché era vecchio cuore non è stata una partita diciamo bellissima non bellissima no ce l'ho fatto per 70 minuti poi il piccolo ha dato a dormire come la vedi ma è ovvio che seguo la Juventus è ovvio che seguo la Juventus come è ovvio che seguo l'Arsenal perché hanno quelle due società hanno fatto la gran parte della mia storia ma non solo calcistica della mia storia come uomo e quindi è normale deve passare ancora tanto tempo per smettere di seguire queste due squadre e la vedi bene la Juve quest'anno cosa pensi? la vedo molto bene ero molto preoccupato perché mi sembrava molto corta la Rosa molto molto corta a un certo punto poi invece hanno fatto un grandissimo lavoro credo che gli acquisti che sono stati fatti non me l'aspettavo così così buono il mercato quest'anno cioè me l'aspettavo il Coppino se ne parlava la Juventus da sei mesi ma poi i vari Nico Gonzalez che per me è un grandissimo calciatore e per me farà farà molto molto ma molto bene alla Juventus uno potrà fare gol senza paura Douglas Luiz che è uscito da niente no? vabbè ma non c'è più sceso in Serie A queste entrano adesso adesso fa gol speriamo Douglas Luiz che è uscito da niente ci sono dei dei rinforzi molto molto importanti un po' sorpreso dal mercato delle uscite uno come chiesa non me l'aspettavo mai fuori dalla Juventus però per la situazione contrattuale posso capirla ma non me l'aspettavo posso capire ma non me l'aspettavo concordo e poi mi piace come gioca la Juve l'ultima no l'ultima penso a nessuno ma le prime due partite guarda tanta 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 roba e Gatti Capitano te l'aspettavi? no mai nella vita no non ridere ma no ma come? ma ridi pure te ma no ma io riso perché hai riso bene secondo me e quindi magari gli aiuta con questa cosa ma ma dire che oggi Fede è un capitano della squadra no ci sono tanti altri che a livello di di importanza nello spettatoio lui come uomo è bravissimo come giocatore fortissimo ma ma ci vuole anche esperienza nei momenti difficili ora è tutto bello perché la Juve ha iniziato bene sta vincendo le partite è in testa del campionato ma poi quando capisci l'importanza di un uomo come Danilo uno può è un caso uscire in campo con la fascia da capitano un altro caso essere capitano chiaro della squadra e Danilo sta giocando adesso mi sorprende questa cosa però resta un capitano e sarà un giocatore importantissimo quest'anno anche se dovesse giocare meno è un un uomo incredibile ed è un vero capitano bene mi fa piacere sentirti dire questa cosa perché mi ha un po' stupito anche a me non vederlo in campo per tre partite sinceramente però ci sta dai per ora il ragazzo che non conosco neanche mi dispiace dirlo Savona mi ha fatto molto bene da terzino e poi ci sta che magari Dani è un po' tardi nella preparazione ma io non ho dubbi che i danni sarà fondamentale per l'Aventus tu pensa che Savona è venuto a vederci giocare la YouTuber League noi giochiamo una competizione chiamata YouTuber League con la YouTube è disperato il ragazzo allora è venuto a vederci oh cosa è disperato ho le coppe di dietro è che abbiamo vinto le coppe sono il capitale la coppa della YouTuber League te l'hai vinta o no? ti manca quella guarda ce l'ho qua guarda cosa ti faccio vedere occhio che nel mondo YouTube è entrato anche Cristiano Ronaldo quindi questa è la tua ultima coppa anche lui non l'ha vinta questa no ascolta da parte gli scherzi cosa cosa farai adesso? qualche progetto? no io sei mesi non faccio niente sei mesi che mi servono per riposare per scaricare un po' un po' la testa il corpo è già bello riposato ok anzi sta crescendo il corpo no no sto scherzando è troppo presto però per per scaricare la testa da tutta la pressione che mi mettevo ogni giorno mi serve qualche mese e poi siamo rimasti a Marbella con la famiglia il piccolo lunedì va a scuola il primo giorno e quindi devo un po' mettere i piedi a Marbella prima di di cominciare a accettare delle nuove sfide però più di sei mesi non ce la faccio a un certo punto mi devo sfidare però per ora mi aiuta il golf a sfidarmi ogni giorno ho visto ho visto sì perché è una sfida senza pressioni ma è una sfida ma poi a un certo punto io qualcosa devo rischiare se non rischio non sono un scensi quindi a gennaio ne parleremo di nuovo ok allora a gennaio poi faremo un altro video in cui mi dirai spiegherai il progetto ma non credo che il progetto sarà nel mondo del calcio immagino sì 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 chiaro chiaro io con la testa sono in questo momento molto fuori anche Higuain ha detto la stessa cosa quando ha smesso che il calcio basta ma sai perché io Gonzalo mi è stato molto simpatico all'eventus e lo io vedo un po' di me in Gonzalo Higuain perché Gonzalo è una persona che lui è molto allegro è sempre molto positivo ma lui il calcio dentro se stesso lui lo soffre e lui soffriva molto il calcio lui ogni tiro sbagliato lo soffriva ogni passaggio ogni occasione gol sbagliata la soffriva tantissimo e magari ogni tanto tu da fuori non lo vedi ma quando conosci l'uomo vedi che per lui significa un pochettino di più che per gli altri e io essendo il freddo perché sono freddo e io non li faccio vedere neanche alla mia mamma o alla mia moglie ma io il calcio lo soffrivo cioè io secondo me ho fatto la carriera perché non accettavo di poter sbagliare qualsiasi cosa nel calcio e quando la sbagliavo tu non la vedevi ma dentro me stesso era un un terrore e fino anche al punto che quando giocavo bene non non risultavo neanche perché era solo una svolta e non una felicità e e quindi gozalo gozalo ha smesso abbastanza presto di giocare altivelli io pure lo dici te infatti e quindi lo capisco perché vedo un po' di iguain è strano ma vedo un po' di iguain dentro di me e quando iguain era da noi dai dimmelo sottovoce hai mai pensato di vincere la champions sì 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 due anni l'anno del Real Madrid il Bernabéu e poi l'anno dell'Ajax ero convinto di poterla vincere perché è arrivato Cristiano tutto l'entusiasmo dopo la partita con l'Atletico e poi ti dico guardavo intorno e non vedevo un'altra squadra forte come la Juventus cavolo e la sfortuna è che che ci è capitato capitato l'Ajax e quello che ci hanno fatto nella partita di ritorno è un incubo che io mi ricordo giocando nella Juventus contro l'Ajax che diciamo tra virgolette è una squadra piccola in champions cioè storicamente no ma in quel momento lì sì e non ci hanno fatto toccare la palla io dicevo ma come faccio a vincere era quell'anno lì è arrivato Cristiano in massimo della forma e la squadra era fortissima dopo l'entusiasmo dell'atletico e ho detto perché sono ancora io l'uomo più importante di questa partita e anche in quella partita ho fatto due o tre bellissime parate ho detto ma non può essere così è proprio Mattais anche ma beh guarda Mattais perché ha fatto quel gol di 2 a 1 ma ti dico poteva essere chiunque poteva essere cioè dopo dopo il 2 a 1 non abbiamo fatto un'azione da calcio è stato ci hanno distrutto ci siamo arrivati in un momento fisico con tanti fuori è stato se non sbaglio Giorgio era fuori per quella partita ci sono tanti motivi però comunque con la squadra che è uscita in campo io ero convinto di poter passare il turno di addirittura vincere la Champions perché poi dico l'Ajax ha giocato contro Tottenham la semifinale e poi la finale Tottenham Liverpool è stata la finale più brutta nella storia della Champions League mamma mia ma guarda che impianto mi sta venendo è capitato così è peccato perché quell'anno ti dico cioè con il Castelo a destra c'era ancora Douglas Costa Dybala Ronaldo tu guardavi e facevi no siamo più forti d'Europa c'era Manzucchi Iguain era al Milan se non sbaglio sì Milan c'è ma poi guardavo la partita facevo ma siamo più forti d'Europa e abbiamo poi Cristiano Ronaldo che non è esatto in Champions conta abbastanza e questa è una uscita da Champions che ho sofferto perché ero proprio convinto di poterla vincere era il tuo primo anno a titolare la Juve tra l'altro sì ho fatto anche molto bene in Champions col anno e quindi è andata così abbiamo sfiorato però il Bernabeu te cosa hai pensato in quel momento cioè tu entri dopo un 3-0 della Juve al Bernabeu espulso Buffon all'ultimo minuto di parare un rigore a Ronaldo cioè te cosa hai pensato scusami poi ti dico un'altra cosa io ero seduto lì a Bernabeu non so come oggi nel nuovo Bernabeu ma c'erano due file una dietro l'altra io ero nella seconda fila con le gambe così hai capito per 90 minuti quelli che hai in alto il portiere giustamente non pensa mai di poter entrare cioè fai il secondo dici che sei pronto ma sei pronto mentalmente fisicamente non ti prepari per giocare la partita e quando ho visto Gigi espulso la mia la mia prima idea è espulso Gigi poi faccio entra più in soglio no ma perché tu da portiere non pensi di poter entrare e vedi lui espulso fai due secondi per capire la situazione fai ah entro io allora ma come entro io è Bernabeu 93 rigore di Cristiano Ronaldo per passare il turno ma stiamo scherzando mi sono alzato mi sono scaldato per un minuto e ti dico noi facciamo con il buon Claudio Filippi facciamo una preparazione dei rigoristi molto importante ma molto importante e ci sono delle partite e ci sono state delle partite dove eravamo convinti di sapere dove un rigorista calcia il rigore e io mi sono alzato lì a Bernabeu ho guardato Claudio e gli ho detto apre vero? e lui fa apre e eravamo convinti ma che tensione no ma non è tensione cioè io ti dico io ero convinto di poter parare con il rigore no perché ero convinto che lui lo apre perché tu vai a vedere la storia l'ultimo che ha sbagliato nel momento importante l'ha chiuso magari ora lo apre hai capito? facciamo un'analisi anche a livello mentale non solo delle statistiche del giocatore dove potrebbe tirare un rigore importante o un rigore meno importante magari fa un'altra cosa cioè al 93 3 a 0 sotto tu sai che Cristiano Ronaldo fa il rigore che in questo momento si sente più sicuro e quindi ho guardato Claudio Filippi e ho detto apre lui fa 6 apre ho detto va bene io entro e faccio l'eroe madonna l'ha messo sotto il 7 l'ha messo il colore ho fatto un rigore io non ho mai potevi mettere Buffon Pinsolio Perin e Scesni tutti e quattro importa ma lì capisci l'importanza del giocatore cioè il carattere di metterla così sotto così tanta pressione cioè non è una roba da noi uomini è una roba da robot e lui è un robot è bravo lui ti faccio l'ultima domanda perché ormai siamo andati anche oltre perché alcune domande le ho fatte fare ai ragazzi che sanno che stiamo facendo l'intervista e ce n'è una che mi ha colpito in particolare l'altra te l'ho già fatta ma quanto sappiamo noi tifosi delle dinamiche di una squadra interna cioè quante cose escono effettivamente perché tante volte escan delle bugie no? noi sappiamo delle cose no ma non tante volte tante 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 volte esatto ma invece il contrario cioè ogni tanto mi sembra che voi sappiate più di noi no è quello appunto cioè del caso di Gregorio voi lo sapevate due mesi in anticipo io l'ho scoperto era quello però era io e Monza è venuta fuori la notizia quel giorno lì ma non lo so comunque ok poi delle dinamiche di quello che succede davvero pochissimo cioè pochissimo escono fuori delle cose c'è una dichiarazione di un anatore o di io non so neanche come escono certe cose dallo spogliatoio ogni tanto è per quello che ti dico bene cioè perché sennò vuol dire che qualcuno parla ma capita anche capita e io meno male non ho mai scoperto chi fa uscire uscire delle cose per me lo spogliatoio è sacro è proprio nello spogliatoio si può fare di tutto si può dire di tutto e non dovrebbe mai uscire niente però esce pochissime volte e quelle volte che esce io ero sempre incazzato e stavo guardando negli occhi di tutti per capire chi è stato quello che ci ha tradito ma ma secondo me davvero poche volte escono delle cose e ti dico meno male no ma in generale meno male per noi appunto ma è normale siete delle persone in carne ed ossa essere umani quindi meno male sì tec non lo so se hai qualcosa da dire te che vuoi dire qualcosa di tuo che non è stato guarda ma io vorrei salutare tutti i tifosi ma come l'abbiamo l'abbiamo detto prima spero di poterlo fare a Torino è un modo giusto però a te un grande in bocca al lupo per quello che stai facendo grazie altrettanto ci sentiamo presto magari non non su youtube ma il contatto lo abbiamo e niente fino alla fine forza Juventus e qua a Marbella il primo tifoso tec io ti dico una cosa ti vogliono bene tantissimi perché davvero tutte le volte che si è parlato di te o anche in questo periodo in cui bisognava commentare il calcio mercato la tua situazione io ho letto tantissimi tifosi dispiaciuti ma proprio dispiaciuti quindi in noi ti posso assicurare che hai lasciato un solco e quelli che hanno dato tanto alla Juve che parlano così della Juve anche dopo ti posso assicurare che rimangono eterni ed immortali quindi tu sarai per sempre uno di noi io ti dico che questa probabilmente è la cosa più importante che mi resta dopo questa esperienza perché io ho vinto dei belli trofei ho giocato delle bellissime partite ma dei rapporti umani con tutti all'interno della continasta tutti della società tutti i ganatori compagni di squadra ma anche i tifosi è una roba bella perché i rapporti umani sono la cosa più bella che mi è capitata nel calcio e i ricordi che ho con tutte le persone che ho incontrato è la cosa più bella di ogni vittoria di ogni trofeo è il fatto che perché lo sento non è che non vedo le cose come come stanno parlando tutti i messaggi che ho ricevuto nelle ultime due settimane dai tifosi della Juventus ma non solo mi hanno lasciato davvero emozionato perché vuol dire che ho fatto qualche errore in campo ma ho la sensazione che a livello umano magari non ho sbagliato una virgola e questo mi fa estremamente piacere e allora fammi sapere quando avete ufficializzato questa data perché voglio venire allo stadio a piangere e salutarti te lo devo no ma io non piango no io 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 sì ti faccio sapere io pianto per tanti di calciatori quello di Giorgio e Paolo quello di Alex quello di Gigi pianto come una fontana quindi piangerò anche al tuo facciamo tutti insieme dai va bene grazie mille a te grazie Luca un bacio ciao ciao